E apriamo la pagina degli esteri, ancora un duro colpo di Wikileaks per l'amministrazione USA. Wikileaks, il sito fondato da Julian Assange, in collaborazione con i maggiori quotidiani inglesi ed americani, ha pubblicato ben 759 documenti sull'attività di Guantanamo dal 2002 sino ad oggi, i particolari nel servizio di Ivano Stapciuk. Si prevedono forse notti insonni per Barack Obama. Julian Assange e Wikileaks, infatti, pubblicano nuovi file segreti su Guantanamo. I segreti dei metodi di detenzione usati dall'amministrazione USA dal 2002 su oltre 700 detenuti del carcere antiterrorismo vengono svelati nel tempo di un click. I file sono in tutto 759 e sono già stati pubblicati da giornali partner di Wikileaks, New York Times, Washington Post, Guardian e El País. E qui sono raccontate violazioni dei diritti umani già condannate e criticate negli ultimi dieci anni, come detenuti trasportati nel campo di prigionia di Cuba in gabbie, imprigionati per anni senza alcuna formale incriminazione, e sulla base di prove labili o estorte con maltrattamenti, quando non con torture vere e proprie. Sono confermati anche i sospetti di arresti e di detenzioni arbitrarie, con casi al limite del parossismo. I documenti, infatti, confermano come tra i prigionieri finiti nella base prigione per sospetto terrorismo, ci fossero individui privi di alcun valore nella scala del rischio terroristico. Per esempio, un contadino afgano all'epoca di 89 anni malato di demenza senile, oppure un ragazzino di appena 14 anni imprigionato dopo essere stato rapito e costretto ad arruolarsi in una banda talebana. Altri documenti, invece, rivelano per esempio gli spostamenti dello Sheikh Bin Laden, e di come, subito dopo gli attentati dell'11 settembre, fosse stato localizzato nella provincia di Kandahar. Da lì, lo sceicco incitava i combattenti arabi a difendere l'Afghanistan dagli invasori stranieri e a combattere in nome di Allah. Un'altra interessante informazione riguarda, invece, il segno di riconoscimento tra i caidisti, un orologio da polso casio da 5 dollari. I documenti usati per addestrare lo staff della base prigione di Cuba ottenuti dal Guardian indicano, per esempio, nel possesso del modello F91W, un possibile segnale di affiliazione alla rete terroristica. Nei documenti si legge, si sa che il casio veniva dato agli studenti dei corsi di Al-Qaeda per la fabbricazione di bombe in Afghanistan, dove gli allievi erano date istruzioni su come fare funzionare il timer. I file pubblicati da Wikileaks hanno anche scatenato una vera e propria guerra mediatica. Alcune testate, fra cui il Daily Telegraph, Le Monde e Washington Post, avevano già ricevuto mesi fa i documenti su Guantanamo, ma non così, per esempio, il New York Times e il Guardian, con cui il gruppo di Julian Assange aveva stretto i primi accordi di collaborazione. Ma poi i rapporti si erano gustati. Adesso che i documenti sono stati pubblicati, non resta che aspettare le reazioni del governo americano. Olanda, allo scopo di aumentare le sanzioni, la polizia olandese avrebbe acquistato i dati sugli spostamenti dei cittadini rilevabili grazie al TomTom, il famoso navigatore satellitare. Ci spiega qualcosa di più nel suo servizio Milena Manicone. Addio privacy anche per gli automobilisti che usano il TomTom. La polizia olandese avrebbe acquistato i dati sugli spostamenti dei cittadini registrati dal famoso navigatore satellitare. Delle informazioni preziose per gli agenti, utili per posizionare in maniera strategica gli autovelox. A rivelarlo è stato un quotidiano olandese alzando un vero polverone sulla privacy di chi utilizza dei dispositivi tecnologici. Una privacy già messa a dura prova, ad esempio da chi usa i più moderni iPhone, come hanno dimostrato il più recente caso Apple. Insomma, cittadini continuamente spiati anche quando giocano con la PlayStation, come hanno denunciato proprio in questi giorni delle associazioni di consumatori in Italia, rivelando che un gruppo di hacker avrebbe violato la piattaforma, rubando i dati personali, le ricevute di pagamento e forse anche gli estremi delle carte di credito di poco meno di 80 milioni di abbonati al servizio di PlayStation della Sony. Questa volta ad acquisire i dati sarebbe stata un'autorità pubblica e con il solo scopo di fare cassa. La polizia olandese, infatti, per avere le informazioni sugli itinerari degli automobilisti, si sarebbe servita di una società intermediaria che si è occupata della compravendita. In realtà, nel contratto di acquisto del TomTom è indicata la possibilità di cedere i dati a terzi, ma gli automobilisti olandesi non avrebbero mai immaginato che potessero finire nelle mani della polizia. A difesa dei cittadini spiati si è schierata la locale Federazione del Turismo, che ha sottolineato il comportamento scorretto, mettendo in evidenza che è sempre necessario dichiarare in maniera esplicita l'utilizzo dei dati personali. Un comportamento che, in fin dei conti, potrebbe non rivelarsi troppo astuto. Infatti, nel caso in cui venga dimostrato il reato, i poliziotti potrebbero rischiare sanzioni e condanne. E pochi giorni fa l'Episcopato Cileno ha pubblicato il protocollo da applicare in tutte le diocesi e strutture ecclesiali di fronte alle denunce contro clerici per abusi nei confronti di minorenni. Parliamo dunque di pedofilia, vediamo meglio di che cosa si tratta nel servizio di Vano Stapciuc. A pochi giorni dalla beatificazione di Papa Wojtyla, l'Episcopato Cileno ha pubblicato un protocollo da usare in tutte le diocesi e le strutture ecclesiali di fronte alle denunce contro clerici per abusi nei confronti di minorenni. I Vescovi hanno così annunciato la costituzione di una commissione speciale presieduta dal Vescovo di Rancagua, Monsignor Alejandro Goiz, integrata da altri prelati. Un avvocato è la direttrice della Commissione per la protezione dell'infanzia vulnerabile. Monsignor Santiago Silva, il segretario della conferenza episcopale cilena, ha dichiarato in una conferenza stampa che la decisione è un ulteriore passo nell'obbligo di proteggere i minorenni ed evitare così gli abusi sessuali all'interno della Chiesa. Il protocollo aggiorna in realtà un testo base già approvato nel 2003. Segue e applica le nuove norme allora emanate dalla Santa Sede. Secondo le norme e le modalità aggiornate adesso sono diversi e numerosi i canali dai quali si possono ricevere notizie e denunce sugli abusi. Per esempio sarà possibile prima dell'intervento del promotore di giustizia affidare le prime indagini ad un'altra persona, anche laica, che sia però dovutamente preparata. Si riducono così tutti i passaggi burocratici e amministrativi che potrebbero ritardare un'eventuale indagine e così si arricchiscono anche le misure di accompagnamento delle vittime. Inoltre il protocollo consente anche di indagare nei casi in cui già si è subentrata la prescrizione, accogliendo così tutte le norme degli organismi pertinenti della Santa Sede e ribadendo la totale disponibilità della Chiesa a collaborare con tutti i tribunali civili e laici del Paese. In ultima analisi viene ricordato che esiste anche l'obbligo, come nel caso dei direttori di istituzioni educative, di presentare una denuncia legale se si viene a conoscenza di casi di abusi. E torniamo in Europa. A Parigi alcune associazioni cattoliche si sono rivolte ai giudici per protestare contro un love shop aperto di recente nella capitale francese. Si sono appellati alla legge sulla protezione dell'infanzia del 1987 che vieta l'apertura di sexy shop a meno di 200 metri dagli istituti scolastici. Ce ne parla nel suo servizio Laura Muzzi. Parigi, la capitale dell'amore. Eppure, secondo le notizie pubblicate da Jeans France Press, la dimensione libertina dei francesi sembra ultimamente lasciare il posto ad una più pudica. Al centro del clamore, l'apertura di un erotic boutique in Rue Saint-Martin a due passi dal celebre centro d'arte contemporanea Georges Pompidou a Parigi. Firme del design dell'erotismo, lingerie costosissime di stilisti molto famosi e gioielli del piacere che non tutte le donne potranno permettersi, il negozio nasce come una sorta di boutique molto esclusiva, dedicata soprattutto alle coppie, dove niente è lasciato al caso e anche le vetrine sono provocanti ma mai volgari. Non la pensano però così la Confederazione Nazionale delle Associazioni delle Famiglie Cattoliche e l'associazione Clare Amore Famiglia, che hanno puntato il dito sull'eccessiva vicinanza del negozio alla chiesa di Sam Henry e ad una scuola elementare e hanno deciso di portare il proprietario della catena di Love Shop, Nicolà Bussnull, in tribunale. In particolare le associazioni hanno fatto appello alla legge sulla protezione dell'infanzia del 1987, poi rivista nel 2007. Quest'ultima vieta infatti ai sexy shop di aprire a meno di 200 metri da un istituto scolastico, pena, due anni di detenzione e 30.000 euro di multa. Le due parti si confronteranno in tribunale il 29 giugno presso la Chambre du Tribunal Correctionnel di Parigi. Intanto Richard Malca, illegale di Bussnull, si dice indignato di quest'azione e sostiene che di questo passo Parigi sarà la prima capitale occidentale a vietare la vendita di sex toys. Infatti ci sarà sempre una scuola a meno di 200 metri da un negozio di questo tipo, ha spiegato l'avvocato. Si tratta di un tentativo insopportabile di intromissione della sfera religiosa nella società francese. Basti pensare, ha concluso Malca, che questi oggetti simbolo della liberazione della donna sono rimborsati dalla sanità in Svezia e che il 20% dei francesi li utilizza.